Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più attesi della nuova edizione del GFVIP. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marina, da poco più di un anno fa, ha fatto subito discutere. Nella clip di presentazione, infatti, Antonino ha parlato proprio della Rodriguez. Abbiamo avuto una storia di due anni e mezzo, ha affermato, lasciando un po' interdetti gli esperti di cronaca rosa. I due, infatti, facendo i conti, sono stati insieme solamente un anno e mezzo. Non solo, il 27enne ha aggiunto, io non c'entravo nulla nella sua vita e neanche lei nella mia, prendendo in qualche modo le distanze dalla 38enne. E mentre Antonino entrava a Cinecittà, la Rodriguez festeggiava il compleanno col suo staff. Niente TV per Belen, che forse ha deciso di non seguire il suo ex al GF.